Recuperati altri 21 km di tracciato tra le stazioni di Lioni, Nusco e Montella, si avvicina sempre di più la riapertura totale della linea ferroviaria Avellino-Rochetta-Sant'Antonio, prevista entro il 2018. Era il nostro collegamento sul mondo perché negli anni 50 generazioni di lavoratori, di studenti andavano ad Avellino, a Napoli, a Salerno e attraverso queste città, negli altri luoghi d'Italia partendo da Avellino, da Rocchetta e quindi è un pezzo di memoria incancellabile. Questa ferrovia è il modo attraverso il quale attrarre dei flussi di turismo vero in Irpinia, che non siano flussi di turismo religioso, ma flussi di turismo culturale ed enogastronomico. Adesso dobbiamo fare anche un bando per utilizzare al meglio le stazioni, i caselli e fare in modo che diventa davvero un'attrazione per il turismo nel territorio. Con il ripristino della Lioni-Montela diventano circa 570 i chilometri di binari senza tempo recuperati dalla Fondazione Ferrovie dello Stato per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile da nord a sud del paese. È un intreccio secondo me fortunato, positivo tra il territorio, le sue manifestazioni e il binario. Io credo che questa ferrovia porterà ricchezza in termini turistici, traffico e valorizzazione delle meravigliose tradizioni irpine. Quindi chilometro dopo chilometro ci riaggiorniamo per l'ultimo taglio del nastro a primavera arrivando direttamente ad Avellino.